Mi aspetto e mi auguro un campionato diverso rispetto alle tante problemate che abbiamo vissuto nel finale del girone d'andata con la speranza che il nuovo anno ci abbia un po' resettato e ci ritorna a far fare quello che fino a novembre avevamo fatto. Quindi mi auguro che la squadra riesca a trovare grande continuità perché è quella che serve per raggiungere l'obiettivo della salvezza. La Vispesaro è una squadra che sta facendo un ottimo percorso, un ottimo cammino, è una squadra che ha solidità, grande intensità, riesce a interpretare le fasi di gioco in molte maniere in base anche all'avversario che affronta. Quindi è un avversario estremamente pericoloso, è una squadra che ha fisicità, ha giocatori esperti e giocatori estremamente temibili sia sulle palle inattive che nell'attacco alla profondità. E poi secondo me ha fatto un innesto al centrocampo di gran livello perché prendere a quadro dal Siena è sinonimo che la squadra e la società vogliano continuare sul percorso che hanno avuto nel girone d'andata. Grazie 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 Grazie